No, no, ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi, ciao, perché? Non ridete più, ora sono qui con voi. Ciao ragazzi, ciao, voglio dirvi che, voglio dirvi che, che vorrei per me, grandi braccia, perché? Finalmente potrei abbracciare tutti voi. Ciao ragazzi, ciao, voi sapete che, voi sapete che, che nel mondo c'è, c'è chi prega per noi, non piangete perché, c'è chi veglia su di noi. E dico ciao, amici miei, e voi con me, direte ciao, amici miei, direte ciao. La mia voce sarà, la mia voce sarà, mille voci perché, mille voci perché, voi cantate insieme a me, noi facciamo sempre a te, ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi, ciao, voglio dirvi che, voglio dirvi che, che vorrei per me, grandi braccia perché, finalmente potrei abbracciare tutti voi.